Al primo tempo c'è stato un approccio sbagliato, perché comunque ci siamo difesi troppo, ma forse anche nel fatto che il pareggio ci poteva stare bene e non abbiamo mai attaccato. Abbiamo preso gol al secondo tempo, al 43esimo, è normale che c'è stato il cambio negli spogliatoi, ho detto ai ragazzi di prenderli più alti, perché comunque in questo momento qui il Trapani vinceva a Bari, la Salernitana vinceva col Como, eravamo ai play-out. Adesso tocca a noi, siamo stati bravi a capire la situazione, abbiamo preso più alti e penso che secondo me abbiamo meritato il pareggio, forse meritavamo anche qualcosa in più.